Perché è venuto fuori una... No, ok. Signore, buonasera, benvenuti a fuori... A me l'altra volta non stai via la connessione, perché anche non riuscivo a fuori... No, no, ma tutta la guardia... Insomma, tutta la guardia... Vedi meglio, vedi, sono abituati... Il tema è una buona... Il giugno, vada a la vista... Grazie a tutti per la Commissione che fa... Con un progetto che fa... Con un progetto che fa rispondere a la parte... Con un progetto che fa rispondere a la parte... Con un progetto che fa rispondere a la parte della... con un numero 13 c'è la inglesa con un numero 14 c'è il risultato con un numero 15 c'è il giudice con un numero 18 c'è il giudice con un numero 19 c'è il giudice con un numero 21 c'è il giudice con un numero 13 c'è il giudice con un numero 13 c'è il giudice con un numero 15 c'è il giudice con un numero 15 c'è il giudice con un numero 13 c'è il giudice con un numero 15 c'è il giudice Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.